Il miglianico fa suo lo scontro salvezza del tretesimo turno di eccellenza. I gialloblù passano a scoppito 2-0. In prima pagina finisce Antonio Polisena. Sua doppietta valsa tre punti. Il treno in ospite Tacchi opta per un 4-4-2 con orta a terminale offensive. Martello e Cinquino cuore della terza linea. 4-3-3 per il collega Angelone con Romano che si alza sulla linea degli attaccanti. Tuzzi chiamato a dirigere il traffico in mediana. Arbitra Damiani di Sondrio. Pronti via ed è subito protesta a Miternina. Su cross di Marchetti Martelli serverebbe a toccare con il braccio. Damiani lascia correre. 23esimo altro segnale a Miternina. Tuzzi dalla bagnerina. Romano stacca. Palla in out. Minuto 31. Il miglianico butta giù il muro difensivo a Scoppitano. Polisena sgomba sulla banda mancina e dopo aver saltato un avversario trafiggi e rassetti. 0-1. Nella ripresa 24esimo. Tegola per il miglianico. Cinquino costretto a lasciare il campo in barella. La miternina prova a riportarsi in quota ma al 35esimo resta in 10 per l'espulsione di Tuzzi. Eccessiva secondo alcuni del clan Scoppitano. 40esimo. Inizia il duello. Polisena Ludovisi. Sul toc di sec. Il 10 giallo-blu apre il piatto. L'estrembo di casa depotenzia. Pochi minuti e la sfida si rinnova. La stoccata del primo trova i guantoni del secondo. Polisena si carica il miglianico sulle spalle. 46esimo. Angolo dalla destra. L'ex vastese decolla ed è 0-2. Gioco. Partita. Incontro. Il miglianico passa Scoppito e sale a 34 punti. A meno 5 dalla salvezza diretta. La miternina si lecca le ferite. Tra sette giorni sfida i nerastellati in terra peligna. L'obiettivo è ridurre il gap dei 9 punti. Negli spogliatoi ascoltiamo Graziano Rosone, presidente della miternina e Alessandro Mennillo, terzino del miglianico. Una partita probabilmente giocata contro una squadra al nostro livello perché il miglianico è una squadra di basso livello. Noi probabilmente siamo di bassissimo livello. Quindi è una partita giocata male da ambe e due le squadre. Loro hanno trovato due golle. Noi abbiamo battuto di una quantità di calcio d'angoli. Il portiere loro credo che non si sia sporcato nemmeno i guanti. Chiedo scusa a tutti quanti gli arbitri per le cose che ho detto domenica se sono andato un po' oltre e se sono stato un po' pesante. Quindi faccio un passo indietro e chiedo scusa. Ora però gradirei che la stessa cosa la facesse qualcuno che mi ha offeso anche pesantemente in diretta televisiva ma che probabilmente si sente onnipotente. Il dono dell'onnipotenza qui su questa terra non c'era nessuno né tantomeno il presidente Giancola. Tre punti fondamentali per comunque riuscire a raggiungere l'obiettivo che ci siamo posti.